Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di 20 metri di luci di Natale a cascata Sul canale abbiamo già portato altri video dedicati alle luci a LED in quel caso erano una luce a LED multicolore da 50 metri e una luce a LED multicolore da 100 metri vi lascio il link qua sopra nelle schede se non avete ancora visto il video oggi invece vediamo queste luci LED a cascata perfette per andare ad arredare il vostro giardiro, per andare ad addobbare il balcone della vostra casa o volendo ad andare a utilizzare anche all'interno della vostra casa come tenda di luci qua sotto in descrizione trovate come al solito il link per acquistare questo prodotto su Amazon è disponibile in tre modalità la versione da 10 metri con luce bianca calda la versione da 20 metri che quella usiamo noi con luce bianca calda e la versione da 10 metri multicolore tutti questi set di luci possono poi essere abbinati ad altri 5 set di luci in modo tale da comporre una lunghezza totale di 100 metri e andare a illuminare praticamente qualsiasi metratura qua sotto vi ricordo che trovate il mio link al canale Telegram e al canale Instagram dove vado a pubblicare offerte buoni sconto per acquistare online all'interno della scatola troviamo i 20 metri di luce a LED come vedete qua ci sono gli attacchi per i due fili da 10 che compongono questa stringa in totale qui abbiamo 800 LED con luce bianca calda che andranno a illuminare il nostro Natale per quanto riguarda il trasformatore qui abbiamo l'attacco con presasciucco mentre invece qua sopra abbiamo il pulsante che ci permetterà di passare nelle diverse modalità ne abbiamo ben 8 con questa tipologia di luci che andranno a creare i diversi effetti potremo poi scegliere di bloccarci su un singolo effetto o volendo farli girare in modo automatico vanno poi a completare la dotazione di accessori i laccetti per andare a bloccare la nostra Ghirlan ad esempio sulla cancellata che c'è qua alle mie spalle e un manualetto di istruzioni che è poco utile il totale dei 20 metri è composto da 5 metri di cavo per arrivare all'alimentazione e poi dal restante 15 metri invece di cavo illuminato vado quindi a montarla qua alle mie spalle e poi la vediamo insieme vediamo quindi gli otto effetti 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 16 16 18 19 19 20 22 22 23 24 16 19 19 21 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 26 27 28 27 25 29